Finisce con un pilotecnico 2-2 il big match tra Potenza e Cavese, gara aperta e viva per tutti i 90 minuti, con i padroni di casa e leader in classifica, prima in vantaggio con Guaita, poi rimontati dalla doppietta di Manzo e costretti al pareggio finale firmato dal solito Franza. Nel primo tempo parte bene il Potenza, la prima occasione bene di nota arriva al minuto 6, con Franza che prova una conclusione facilmente parata da bisogno. Al dodicesimo arriva il vantaggio di padroni di casa, con Guaita che da fuori aria scarica un sinistro preciso che si insacca a fin di palo, 1-0 per il Potenza, ma gli ospiti non ci stanno. Al ventottesimo, su schema da calcio di punizione, Manzo prova la conclusione dal limite, deviazione decisiva ed un difensore e palla che termina Beffardi in rete. 1-1 e Cavese è gavanizzata dalla rete siglata, pochi minuti dopo infatti arriverà doppio ospite, ancora una volta Manzo si coordina e la sua conclusione si insacca alla destra di Bresa, 1-2 micidiale all'Alfredo Viviani di Potenza, si va a riposo sul punteggio di 1-2. Nella ripresa la squadra di Ragno ha fretta di raggiungere il pareggio, ma la Cavese resiste e non rischia nulla nel primo quarto d'ora. Il Potenza ci crede e al venticinquesimo trova il pareggio, Franza lasciato solo in aria, batte l'estremo difensore con una semi rovesciata ed è 2-2 grazie alla magia dell'attaccante brasiliano. Nel finale non accade più nulla, a parte una esplosione per parte, prima Gorzegno per la Cavese, poi Diop per il Potenza. Triplice fischio e il big match di Serie D Gione H termina 2-2.